Musica Buonasera a tutti e benvenuti Bentornati in un nuovissimo video Su minecraft Oggi Fratello si deve togliere dalle scatole Non so se lo capisce lei Ascolta mi tolgo dall'f5 Perché sto qua rompe troppo le scatole Io starei seduta Stia lì seduta lei Non le ho detto niente Non le ho rotto le scatole Che cosa desidera Chi è questo qua Chi è? È uno C'è Goku C'è Goku Pure lui viene qua Lui è il nostro parente Perché siamo tutti pari Ma va Comunque ragazzi Un po' che brutta schiena questa Ragazzi siamo in un server Che abbiamo visto in un video E ci piace Che ho Lei ha visto in un video Che poi ha detto a me Perché io sono io Quindi vabbè Questo server ragazzi Si chiama Hai detto Po Fai tab Dov'è Potter World Ed è un mondo Tutto ispirato E dovrebbe essere molto Harry Potter Alla saga Che forse è una di quelle Che ho amato di più Probabilmente Conoscete il film a memoria È inglese ragazzi È inglese Io sappio è solo premium E quando entri Ti dà una text personalizzata Da installare Ma è proprio velocissimo Si si Ci ho messo poco io Ci mettete poco anche voi Fidatevi Ci ho messo poco io Ci mette poco Chiunco a sto mondo E ragazzi Quando entri Hai la possibilità Di scegliere Tra tre tipologie Che puoi scegliere No Puro sangue Mezzo sangue E non mago Indovinate dove siamo Nei puro sangue Eh Siamo avanti noi Perché io adoro Draco Malfoy Esatto Un po' per fare un esempio Che ha visto Harry Potter Harry Potter e Hermione Che Cioè non baio Entrambi i genitori Non maghi È Teoria Ha i poteri maghi Però Dovrebbe essere Non mago Harry Potter E puro sangue No Si No no Entrambi Oddio No C'ho C'ho Problema C'ho Problema Ron Puro sangue Però Ron Si Vabbè Basta con Stenditi Pia Che è già tre minuti Che siamo qua Che stiamo Girando i pollici Allora Questo è il nostro Fratello Che ci dice Che dovevamo andare Al market Me l'ha detto un paio di volte Non so se si vede Alla città Me l'ha detto solo 40 volte E gli si è rotta la macchina Quindi ci dobbiamo andare A piedi A pedaglia Prima eravamo a casa Vabbè Non mi spoileriamo un cavolo Ma che figata Ha sentato Guardate Ma che bella Poi ha tutta la texturina Tipo polverina roscia Guardate che bello Ciao sorella È una figlia dei fiori Alla tosse Scusate Scusate la mia traduzione Non è proprio il massimo Ma è tutto Ma non leggo cosa dice Ah ok Vabbè dice Cavolate comunque La fin di conti Niente di che Sì vabbè Dobbiamo andare là Dobbiamo andare là Insomma Guarda Ma fuma la birra Ma anche il cibo È fumante il cibo Ma Che brutto che sei C'è un segreto Nel muro Ma ce l'ha spoilerato quello Bastardo Non l'ho visto Non l'ho visto Sto guardando in cielo Non l'ho visto Ma si vede lontano un miglio Non l'ho visto Allora Aspetta Adesso riesco Si deve chiudere quella porta Parla di seria Tu c'è Tu c'è un muro C'è un muro Guarda te Sbatto tre volte Uno Due Tre E si apre Vedi Andiamo Proprio come nel film Oh mamma mia Chi è È un pirla Un wizard Hello Mi ha salutato Hello Allora Dobbiamo andare a prendere Tutte le cose Cioè le cose Nei vari negozi Superbob Ci puoi entrare Non possiamo entrare No perché non siamo ancora a scuola Ah ok Dobbiamo andare a prendere La nostra prima bacchetta magica Quelli del primo anno Non possono accedere Cioè non possono giocare A Quittich Tristezza Sì però Ma Harry Potter Non è il primo anno Però è stato il Ah il primo Perché lui è speciale Come si dice i bambini Comunque Ehm Sa che questo Non è questo il market No no È proprio un negozio Da Ollivander Vedete ragazzi Allora Nell'inventario abbiamo Tre libri Lo starter Cioè la guida start Sì che dice tutte le cose In inglese Le regole E il mondo Vabbè Poi abbiamo il pane Abbiamo il pane Se abbiamo fame Che ci da Ci permette di prendere Una Una bacchetta magica Esatto Dobbiamo cercare Ollivander Dov'è Ollivander Dritto Guardalo Eccolo lì Cioè siamo cercati Proprio Cioè era lì dietro Ma sono passato lì C'è scritto negozio Rub Robe varie Chi ha questa roba Rub show Chi è questa Rub seller Buongiorno C'è brutta Hello Posso prendere La casacca Però Dio quanto mi lagga Posso comprarla L'ho comprata Mettile La sciarpa è una figata Oddio mi si vede la bocca Tan 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 C'è tutta la sciarpa perché Sì vabbè sembra che siamo al polo norte con quella sciarpa dai Ma non mi si vedono gli occhi Te si vedi mezzo occhio Hai me la sottolta perché non si può dai vivere con una sciarpa così Niente Dobbiamo cercare Ollivander Io voglio la bacchetta Segui le frecce per andare al prossimo market Sì è questo Ma che brutto che è Che brutto Oddio Che fucata la pacchetta magica Guarda la punta Sbrilluccica Premila 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 Gli incantesimi Gli incantesimi Come funziona forse Come funziona No dobbiamo scoprire Oh Ho fatto una magia Che figata Magica bula Magica bula Bidi bipo Bidi bipo Facciamo così Bidi bipo Oddio Ma no dai No è una figata È un'autentica figata ragazzi Scusa Oh ma che c... Non ci si siede sui tavoli Siamo educati a sto mondo Ok per toglierla basta ricliccarle E si toglie e si mette Mi ha fatto vedere i libri Guarda i libri Guarda i libri Tadam Si aprono e si chiudono Si aprono Tac Si richiudono Però dato che io sono uno che legge molto Quindi stanno chiusi Oh no le frecce non ci indicano Dobbiamo andare da sto scemo E chi è? A questo Cosa c'è scritto qua? Ehm Se hai preso tutto È ora di andare Ah sono i nostri Ah È la moto di Jagd Guarda i sidecard Uno sta seduto qua E questo si mette seduto qua Guarda Tac Io sto nel sidecard Aspetta Oh no Si è seduto sul palazzo Davanti della moto E come se ci siete? Aspetta Vabbè Clicchiamo sullo stregone allora Confermi che abbiamo comprato tutto? Ah ciò In teoria si Ah si Il vestito e la bacchetta Abbiamo bisogno Si Boh vai Andiamo Oddio Dove siamo? Ah la stazione La stazione dei treni Ma possiamo passare attraverso il muro Diamo Diamo Non abbiamo tempo da perdere La macchina Rompiamola No scherzo Dobbiamo entrare Alla frecce Cioè scusate Bellissimo Mi stava proprio una roba incredibile Grazie 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 a me che l'aviamo scoperto Questo mondo 9 3 4 Corri 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 che perdiamo il treno Corri sta partendo il treno È questo È questo Sì Cioè abbiamo il pacchetto Questo è il nostro pacchetto Che trova dentro Oddio Buttati nel muro Oddio Ok Siamo arrivati Il treno No Devo andare a vedere Davanti al treno Devo andare a vederlo È una cosa proprio Ma che figata Do Aspetta una scuola Davids Ma una figata Non prendere un posto a sedere Eh sì Allora Ciao studentessa Ah io non voglio andare con questa qui Ah non posso andare avanti Uffa Sediamoci Oddio Sediti Sediti Ciao Ok uscito dal treno Aspettami Stavo bevendo Mi sono dovuto mutare Ma dai In un momento come questo Non si può bere Che bella sta texture Che fa le fette d'amuria È una figata Allora le frecce ancora Eh qua è tutta la mia roba La mia roba Spero che arrivi tutto Non avevo un cavolo Non sono arrivato Però adesso Io voglio Edwige Io voglio il sorcio Io voglio il sorcio Qui dove siamo? Crosta Io voglio Crosta Andiamo a continuare Dove siamo Dobbiamo andare alle barche È vero Siamo là Corri Se poi è quello Perché ogni anno Cambiava il modo Di andare a scuola Quindi Ah il bagno per le donne Ciao Woman bathroom Scuso Gift shop Non c'è eccesso Per gli uomini Ah no è di qua Woman Non c'è eccesso Per gli uomini Che c***o Cos'è sta roba Voi fissiate in piedi Andiamo Ma se scappa l'altra Vabbè ci attacchiamo al tram Ho capito La carrozza La carrozza Oh che c***o Mi scusi Devo passare Mi scusi Siediti Siediti Oddio Siamo arrivati Oh mio dio Devo girarmi La casa di Hagrid Vero? No no Questa è la rimessa delle barche Ma sai che mi sembrava Dov'è la casa di Hagrid? Allora Le frecce dove sono? Ci sono le frecce Qui Qui Di qua Allora Di qua Continuiamo a andare Ah le barche adesso Dobbiamo prendere Devo andare dal pier Ma non è che dovevamo andare in banca Perché hai visto il video E dovevamo andare anche in banca Ma credo ci vengono a tornare in città Quindi Clicchiamo su questo Pronta? Confirma Due Tre Confirma Vai Oh mio dio Possiamo In barca E mo cosa succede? Anche me Ok ci sono Ok c'è un altro pier Come arrivati? Aspetta Per un momento Non è sul pacca Aspetta Oh mio dio Oddio Ancora devo aumentarmela probabilmente Ma è la render vista Comunque Ah si è ragione Ma io vedo soltanto le mura E' ero quasi al massimo Andiamo allora Corriamo Andiamo a parlare col pier La qui Ah no ok Siamo arrivati Vai fuori Che c'è la cerimonia Di mandare alla cerimonia E' vero C'è lo smistamento Brighiamoci Brighiate Eccolo Si inizia a vedere Oh mio dio Guarda Fermo Guardalo Donna mia Ha comunque Il server 1.10 L'abbiamo detto Verso la fine Però Sarà proprio Qui dentro Cosa c'ha? Boh Ah dobbiamo seguire le frecce Le frecce Sempre frecce Non seguire vabbè Io voglio essere Serpe Serpe verde Io voglio essere Grifondoro Mi dispiace Siamo davanti Così poi ci scontriamo Oh mio dio Guarda Guarda quanta gente che c'è Noi siamo in ritardo Siamo in ritardo Come sempre Scusi Permesso Scusate Permesso Permesso Io io posto davanti Che figata il cappello Ecco qua Ciao Io mi resiedo qua Ma c'è il cappello Eh ma mi siedo qua Sta parlando Ah Che va anche di cara sul cappello Ma questo è vero Ma questo è vero Ah dobbiamo metterci i vestiti anche noi Cioè non siamo mica vestiti Siamo entrati a scuola Siete vestiti Dobbiamo cliccare sul cappello Allora poi leggi bene cosa ti dirà Perché è molto importante Ok Non puoi più uscire Non puoi più uscire Ok vado eh Una volta che lo fai non puoi più uscire Allora sta scegliendo Sta vedendo un po' chi posso essere Caro ragazzo Ok Carasenca Oddio Dove mi ha portato Ehm Ah ok Dove sei? Mi ha portato credo in posti diversi Non siamo allo stesso posto Ok Dobbiamo scegliere Te che cos'hai come Ah una domanda Una domanda Eh prova a leggere Se cammini nella foresta Allora stai camminando E no stai cercando qualcosa nella foresta Un antico tesoro nella foresta praticamente Ehm Che cosa fai? Insomma Che approccio usi? Che approccio usi? Che approccio usi? Allora Allora Se si sta camminando nella foresta Che approccio usi per cercare un tesoro antico? Allora L'A Cerco tutte le ore se è possibile Per cercare il tesoro B Ehm Mi informo E vedo prima dov'è Che devo andare Cioè come lo trovo Come lo devo cercare Ehm Prendo Arco e frecce E mi cebutto Invito amici E lo cerchiamo tutti Sì insieme Io invitare gente Io faccio la A Io invito gente Ora premo Devi premere sulla Devi premere sulla Ah no Io ho scritto Io ho fatto anche D e invio No puoi anche premere sulla domanda Ah vabbè io ho fatto D e invio Sì ho la risposta Eh solo adesso sono diversi mi sa le domande Perché? Eh sì perché Your friend is up late to work Ah ok I due amici stanno facendo un lavoro Ma io ho finito Cosa Io cosa faccio? Cosa faccio? Visto che loro Vado a dormire La C è quella Vado a bere La C è quella La C vado a dormire Buona fortuna Io vado a dormire La C No dai leggiamo La A Leggiamo il questionario E cerchiamo le risposte Ehm Gli da una mano a farlo Insomma La B Stiamo lì tutta la notte E proprio Gli do Insomma Gli faccio compagnia Gli do supporto L'ultima E lo faccio io Praticamente Gli dico le risposte giuste Gli do Praticamente tutto Io sinceramente Vado a dormire Cazzi oro Io l'ho fatto Le sorpresionatizze Poi me ne vado a dormire Mi dispiace Vai Allora Allora Siamo nell'ufficio del preside Entri nell'ufficio del preside Ehm Cos'è? La prima cosa Che ti balza all'occhio Che ti interessa di più Sono contentissimo Di esserci entrato E vedere tutto Insomma Le minchia Oh se sbaglio l'inglese Datemi Sono scarso L'inglese Vedo la spada La mitica spada Appartenuta A un antico stregone E Perché esiste Sempre esistito Vabbè Vedo Portrait Ed master With Versus friend Ah credo Gli oggetti appartenuti O comunque Dei vecchi presidi Ah ok Vecchi presidi O una porta chiusa Una piccola porta chiusa Negli atti Che di domanda è? La porta Una piccola porta chiusa Cioè la prima cosa Potrebbe attirarmi Tra queste cose C'è la mente Delle cose del presidi Non me ne fottono Proprio niente No devi pensare Che sei dentro Il mondo di Harry Potter Sì ma ti dico io Cosa farei A posto di queste domande Io sinceramente Parlando Farei Io La spada E lo stregone C'è la mente Bellissima Sì ma quante però Allora With Thousand Cose Ah Mi sta chiedendo In che casa voglio stare Serve verde Quattro ore Per capire E riuscire a capire Dove voglio andare Alla fine me lo dice proprio Ma va a cagare Dove voglio andare Tre ore per capirlo No io vado a Grifondoro Mi dispiace Serpe verde Sono una brava persona Cos'è? Oddio Cosa è successo? Oh tra poco Mi sta caricando Mi sta caricando Mi sta portando Alla casa Alla casata Mi sta portando Oddio Voglio andare a serpe verde Ti prego serpe verde Serpe verde Serpe verde Ma infatti Sono davanti Al quadro Della grassona Serpe verde Serpe verde Sì Sono serpe verde È vero Sono rosso Anche io non ho Ho scritto in chat Sono rosso Un grifondoro Mi da No la divisa Del serpe verde Ma tu sei entrato Dietro il quadro No Io c'ho il quadro davanti Quello dell'ingresso Del grifondoro Qua mi dice Che per chi chiede L'aiuto Ma non c'è un cavolo Ma tu dove sei andato Scusa adesso Dove sei Ah Griffin Scusa ma io voglio la divisa Perché non me la dai La divisa da studente Non ho requisiti Va bene Io allora sono davanti A sto quadro Che devo cliccarci sopra Ma io no Sorry Non posso Ma sei andato avanti No 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 Io sono davanti Alla porta della mia casata In teoria Dormitorio maschile Direi di no Ah si Sono andato alla porta Cliccando Dicendolo la parola d'ordine Apro la porta E dentro La mia casata La mia casata funziona così Ma tu sei entrata Clicato il bottone E sei entrata Non sono No Me l'abbia teletrasportato Direttamente qui Io sono davanti alla porta Devo ancora entrare Oh A me Ha portato direttamente qui Che casino Che casino Ascolta Qua c'è Il dormitorio femminile No no Io devo ancora entrarsi E il dormitorio moschile Entraci allora Che ci aspetti Volevo chiudere Poi ci sono le penne Eeeh Ah ecco Ecco la casa Una pecora Cioè il capo del mio dormitorio È una pecora Il mio è un gatto Che si ma ioda Ah ok professore Ok Ok non ho i permessi requisiti Neanche io Che figata Il dormitorio del grifondoro Che figata il dormitorio dei serpoli È tutto verde Tutto rosso E c'è i simboloni No è figata Vabbè Stacchiamo che purtroppo Tu sei laggiù Oddio cosa ho premuto Io vicino al fuoco Oddio c'è uno vicino al fuoco con me Vicino Fai tab Ah ah Ha tutti i colori Però quanti siamo pochi Siamo pochi però Tutti colorati Guarda quanto pochi sono Eh ti vedo tra i verdi Solo che c'è più gente Guarda il bruno c'è un cane proprio Il rosso è pieno Allora Voi avete un bracere Tipo un Un cammino? Sì C'è tipo un vasetto Ecco premilo Mi apre un inventario di magie E hai visto tutte le magie che possiamo apprendere Oddio Ok ok basta 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 Io direi che il video si può concludere qui Perché ci sono veramente troppe cose Che possiamo guardare Possiamo fare Ho appena guardato che puoi prendere la valigia Così in tutti i posti che vai Se le ricordi ti teletrasporti Basta chiudi Basta Bellissimo Un serve bellissimo Noi ci vivremo Dici la vostra opinione Se vi piace questo serve Scusate se il video Diciateci Non dici Diciateci la vostra opinione Scusate se il video è venuto un po' lunghino Ma sinceramente A chi se ne frega Ci stavamo divertendo troppo Vi ricordi di lasciare il pollice di subito in questo video Vi ricordi di lasciarlo se non vi è piaciuto in questo video Condividetelo Commentatelo dovunque Anche accesso mi raccomando E niente Ciao 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 Grazie sto morendo di fame È vero Mi sta carando la fame anche a me Anche questa è una magia Prima non avevamo fame Adesso si Merda Che merda Ciao ciao La cicabu la pittibabu la pittibibabu Grazie a tutti